Sì, con Perugia abbiamo fatto una bella partita, forse nessuno si aspettava un risultato del genere, quindi noi come anche contro la Lube ci giochiamo le nostre carte, giochiamo in casa, siamo consapevoli di essere in un buon momento, quindi venderemo sicuramente cara la pelle. Sì, non lo so, non ti so dire precisamente il motivo, ma fuori casa abbiamo ottenuto buoni risultati, soprattutto a punteggio pieno e poi siamo andati a vincere l'ultima a Perugia che non aveva mai perso, quindi noi siamo in fiducia. Loro hanno comunque buoni giocatori, giocano bene, altrimenti non starebbero in quella posizione di classifica. Noi secondo me dobbiamo pensare più al nostro gioco, partire aggressivi e cercare di giocarcela punto su punto e arrivare alla fine.